Con l'hashtag ConfCommercio bollette in vetrina, la ConfCommercio Caltanissetta Enna ha dedicato uno spazio sui social dove verranno pubblicate tutte le foto delle attività che aderiranno alla campagna bollette in vetrina per l'appunto. L'invito è quello di fotografare, pubblicare e inviare sui social della ConfCommercio Caltanissetta Enna le immagini dell'ultima bolletta di luce o di gas o entrambe e quelle relative allo stesso periodo di un anno fa esposte sulle vetrine delle loro attività. Le stesse riceveranno anche una cornice da appendere con le bollette. L'obiettivo è quello di far conoscere ai clienti e a tutti i cittadini le difficoltà delle imprese. È una campagna nazionale della FIPE alla quale deriamo con convinzione, dichiara il presidente di ConfCommercio Caltanissetta Enna, Maurizio Presti Filippo. Il caro energia è diventato un'emergenza prioritaria che impone l'intervento deciso di tutte le istituzioni e le forze politiche. Gli aumenti non accendono a rallentare ed erodono i margini di guadagno mettendo a rischio la tenuta delle nostre imprese. Chiedono delle soluzioni dunque soprattutto prima dell'arrivo dell'inverno. Il presidente Presti Filippo aggiunge che la pandemia oggi è meno grave ma non certamente risolta. Le due emergenze così ravvicinate rischiano di sommarsi con effetti pesantissimi per la nostra economia. La crescita inarrestabile dei costi energetici non è sostenibile dai bilanci delle imprese del terziario, che spesso lavorano con margini estremamente ridotti.